e benvenuti siamo tornati dopo veramente un sacco di tempo su land of the dead road to field green c'eravamo lasciati se non ero che eravamo arrivati al cavolo non me lo ricordo se eravamo arrivati all'ospedale o all'autoseiro forse qualcosa all'ospedale dovevamo essere arrivati se non ero si eravamo partiti da qui oh il chiurlo dobbiamo stare attenti a non bruciarci non bruciarci poveglota sali Scusate se è tossirò, porca mi si ero sputato sullo schermo, non dici se è tossirò ma sto stando a me sospedato, quando c'avevo Oh. Tossi. Oh. Che vedda quindi, scareccire l'impia. D'eので fare plus. wow 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 oh c***o perchè è chiuso, manco un'arma, sai avevo il fucile ma mi hai fatto prendere il fucile, bastardo comunque vi chiedo scusa se mi sentite con il tono della voce più basso se cosa come ho detto stamattina mi sono svegliato mi sono svegliato con mal di cola, con un fetino di raffreddare e quindi vi chiedo scusa in anticipo ok io ho fatto fuori Sì. Per qua mi hai chiuso Se vuole Alla pala, alla pala, alla pala, alla pala, vai Ma prendila Ma prendila Guarda caca cosa sia L'esplica evoluzione, una bottarella a sto zombie, lo diamo. Ok, vediamo il basso di qui. Allora, colo, 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 colo! Oh! 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 Ok, devo ricordarmi i tasti... Prefari sa... ... 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 Sì. prendo l'arma, forse di questa faccio F3 ok, quick saving ma si che quante cose save non mi da un problema questo badaglio mi fa partire da dove decido io e non da dove decido io lo zombie cani fa non work ok right guardate che questo deve aver dato da mangiare a moltissimi zombie se no non si spiega va 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 Oh Right up. Right up. Right up. Right up. Cosa bobusca? La cazzarola. Abbatto la bobusca. Abbatto l'infiammiera. Questo è un trigger, perchè se bastardo fa finire il rimedì e appena mi giro si risveglia. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Ok, siamo arrivati a qualcosa. Ok, avevo visto qualcosa di particolare. Che cavolo è quel cosa lì? Ah, le munizioni. Ma perché? Ok. Ecco la porta. Culo. Culo una fava? No, eccolo. Questa parte non si può aprire quindi dobbiamo agire dall'altra parte sperando che questi morti restano morti. Non è vero, precozzi, ripetiamo anche la porta. Questa parte non è vero. 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 non so se sta parlando o se sta mastigando ok uuu culo madonna che è successo qui ma che hanno scannato un porco hanno scannato se no non si spiega hanno scannato un maiale non si spiega e comunque controlliamo se abbiamo stafortuna la parte chiusa dove c'è tutto col sangue ma prima io vorrei dare e vedere se riusciamo a trovare anche qualche medicina ah no qua è da dove siamo arrivati ma scusa ah quella era perchè non poteva capire da cosa e quindi se poteva capire sarò di chi è semmi indir tangolo tangolo no 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 e fa un culo oh 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 c'è qualcosa qui mi aspettavo un pochettino di cioè scuso tu mentre stai facendo intrusione botolista zambi gioca a solitario oh oh no cioè le persone normali c'hai un coso non pensate che che forse i zombie ti mangiano fai che cosa ma che f3 prega mozione non 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 Oh E' il fagolo C'è perciò a panna rotti i baddanzoli Che cos'è? Mi sembra Ah, però sono così per i lavori E' come si chiama Cioè, tu ti immagini questo povero cristo che è qui Che si è visto arrivare questa ondata di zombie Si è visto arrivare questa ondata di zombie e non si è potuto muovere da lì C'è la morte più La morte più brutta che una persona possa ricevere Ma sono solo munizioni Ma che cavolo Oh, finalmente Una nostra vecchia amica torna A tenerci compagnia Dopo veramente un sacco di tempo Che non lo utilizzavamo Ok 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 Oh I 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